Ue ue, ciao a tutti! Io mi chiamo Stefano Parisi, ho 23 anni e sono un ragazzo di origine pugliese. Sono nato e cresciuto in un piccolo paese in provincia di Taranto e attualmente vivo a Roma da circa un anno e mezzo. Mi sono avvicinato alla recitazione sin da piccino, ma purtroppo ho dovuto accantonare per svariati motivi. Successivamente crescendo mi sono iscritto all'istituto alberghiero e sono diventato un cuoco. Ad oggi continuo ad esercitare questo, ma in maniera part-time. Il mio lavoro mi ha forgiato, mi ha fatto crescere tanto in fretta e oggi mi permette sicuramente di sopravvivere e di poter investire in quel che amo. Penso che la vocazione dell'attore si è tornata ad urlarmi contro circa due anni fa e questa volta non ho fatto altro che dargli voce. A livello cinematografico punto sicuramente ad essere un attore trasformista, amo e adoro la possibilità di poter incarnare tantissime personalità, amo alienarmi e forse è anche per questo che faccio fatica a fare un video del genere dove sono totalmente Stefano. Amo lo sport, sono un ex calciatore, strempello la chitarra e adoro giocare con i dialetti. Adesso vi mostro i miei profili. E le mie mani. Concludo dicendo che se dovessi attribuirmi due oggettivi a livello attoriale vi direi sicuramente che sono un attore coraggioso e che possiedo tanta tanta tigna. Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Ciao.